Benvenuti, sono MarioFile85 e oggi ci troviamo nuovamente su Star Trek Online. Allora, sono tornato dopo un po' di, diciamo così, pausa, perché mi ero trovato in difficoltà con una missione che ancora non sono riuscito bene a finire, cioè questa escape. Allora, però noto che ci sono degli skill point, eh sì, da, allora, Andrea, allora, no, qua sembra che non ci sia niente, non ci sia nulla di, ok, no, asset, ok, quindi avevamo solo questo, quindi buttiamoci nella mischia. Speriamo che, che non stia già iniziando, eh sì, sono meno dieci, paura che non fa. Allora, ah ok, qui ci sono i satelliti, eh, dobbiamo emettere, eh, questo, sì, break free from the depending field, iniziai feedback pulls. Ok. Andiamo? No, siamo un po' fermini, vabbè. Ok. Andiamo di qua. Spariamo un bel fuzzusirulo fotonico. Dovremmo distruggerlo con un solo colpo, no. Ok. Ok, speriamo che questo sia l'ultima. Ok. E' una delle, 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 delle cose che a me piace di più. Di. Aspetta, questo è che dove... Questa l'abbiamo un po' di distritta, vai, 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 vai. Ok. Oh, ok. 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 Ok, riprendiamoci un po' prima di andare a continuare la battaglia 용ani Gila 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 non. c'è un po' di nuovo, c'è un po' di nuovo non c'è un po' di nuovo, non c'è un po' di nuovo vediamoci per fortuna che queste non sono troppo forti comunque non ci fanno neanche danno kabu, allora c'è un modo per voglio vedere se c'è però un modo perchè queste sono di nuovo ferme qui capisco perchè si fermano qui ah no ci sono alleati in ogni ok quindi questo è il prossimo satellite non possiamo spararlo spariamo un bel po' di confettini qua non so adesso la gula dovrebbe apparire e infatti eh però vediamo adesso mi stanno aiutando andiamo a giocare ad... non so non so vediamo a fare che cosa? che cosa? che cosa? che cosa? mi passare la mia la vita Ok, non c'è la scama faccia andiamo a giudice Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, soltanto un attimo gli scudi. Grazie. Ok, ci stiamo riprendendo piano piano. Ora direi che siamo al massimo, giusto? Ok. 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 Sì 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 Niente sto trovando delle difficoltà incredibili Evidentemente sono necessarie delle delle modifiche alla nave ehm con questa nave forse non siamo in grado almeno con queste armi che abbiamo a bordo non penso che non siamo in grado di perché è veramente troppo forte in grado di 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 niente 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 inutile 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 ogni volta anche perché non me la salva e e non so se questa sia in grado di troppo forte troppo forte troppo forte in grado di 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 Non capisco come mai abbiano messo una, sinceramente, un qualcosa di così difficile, devo essere sincero, non riesco a capire perché avrò messo un vascello così senza per esempio l'aiuto di altre navi, perché se ne rimangono ferme, non capisco, non lo so, se per caso qualcuno l'ha già fatta questa... Evidentemente c'è qualcosa che mi sfugge, forse c'è qualcosa che bisogna fare e forse non bisogna. Allora, vediamo un po' se andandogli vicino... Lui ci spara? Se noi siamo vicini a lui? Voglio cercare di capire Sì, ci spara Ecco, forse bisogna rimanere il tanto fuori, sparare e andarsene. Proviamo così Proviamo ad allontanarci, sparando Ecco Forse bisogna, forse il punto è quello Eccolo qui, adesso proviamo un attimo Adesso l'abbiamo L'abbiamo seminato Ok, ci riprendiamo un attimino e andiamo di nuovo sotto Eh, però si è... Il problema è che anche lui si è... No Perché non mi fa sparare più? Forse sono troppo lontano, sì Forse sono troppo lontano, sì Bisogna rimanere sempre lontani il più possibile. No, è assolutamente impossibile. No, non lo so.